liberi tv presentazione del libro di pierpaolo segneri alba di sogni poesie corsare un progetto editoriale che è stato sposato con entusiasmo e gioia da luigi sarpi di sarpi editore sarpi arte luigi sarpi perché ha deciso di sposare questo progetto editoriale guardi io appena ho letto le poesie di pierpaolo sono rimasto veramente colpito perché sono dei quadri sono dei dipinti le sue poesie sono poesie profonde belle che danno tanto a chi le legge ovviamente a chi le legge in maniera attenta in maniera da capirle perché sono molto molto profonde bravo all'autore che veramente ci ha regalato delle emozioni uniche questo libro mi ha fatto immediatamente venire alla mente un bel dipinto di nino la barbera che è il primo dipinto della serie di villa adriana che potrete potete ammirare nella copertina è un sogno questo e sono quelle quello che ci ha donato pierpaolo segneri un grande grande poeta ecco chi ha partecipato al progetto grafico di questo libro ci sono naturalmente dei ringraziamenti da fare perché spesso ci sono persone che lavorano dietro le quinte nel backstage ma sono altrettanto importanti come quelli che ci mettono la faccia e il nome in prima pagina certamente il mio ringraziamento va a tutto il mio staff iniziando dal grafico che è Daphne Salvadori e a tutte le maestranze della tipografia che ha dato questo bel libro io chiuderei con lei Luigi Starpi ricordando la persona che ha permesso e ha creato il punto d'unione dell'amicizia che è nata tra lei e Pierpaolo ovvero la scrittrice Maria Pia Cappello con la quale c'è una feconda attività di produzione e approfitterei di questa intervista per lanciare il prossimo libro di Maria Pia Cappello senza dare troppi particolari perché so che l'autrice ci tiene al riservo almeno in questa fase però diamo qualche piccolo indizio ecco almeno qualcuno è un libro che verte su un grande scultore uno scultore che vanta due opere dentro i musei vaticani e si chiama Aleandro Marmo è uno scultore argentino di chiara fama e a giorni ci sarà la presentazione di questo volume che diciamo spero abbia lo stesso successo che sta ottenendo il libro di Pierpaolo Sogneri Alba Di Sogni grazie grazie infinite